Michela Arcuri, la collaboratrice dello scenografo, ci parla di questo presepe? Allora, all'interno di questo presepe abbiamo inserito dei personaggi comunque che non sono i soliti tradizionali personaggi a partire dall'entrata con l'annunciazione, poi San Pietro, Benino, la Mendicante e volevamo con la scenografia comunque emozionare il visitatore fino ad arrivare poi all'evento spirituale che si trova poi alla capanna e speriamo comunque di suscitare emozioni, grandi emozioni dello spettatore comunque per vedere qualcosa che non è stata mai vista prima Allora, quest'anno ci saranno 120 figuranti all'interno delle presepe e niente, vi aspettiamo numerosi Allora, quest'anno ci saranno? A presto A presto A presto Grazie.